La vittoria di Trump cambierà i rapporti commerciali internazionali? Quindi Stati Uniti, Canada, Europa, di insieme scrivere una globalizzazione diversa, scrivere le regole di una nuova globalizzazione fondata su standard elevati e su un riequilibrio, perché oggi abbiamo concesso molto nei decenni scorsi all'est del mondo, diciamo così, in particolare alla Cina e adesso è tempo che queste concessioni tornino indietro e si costruisca quello che viene chiamato un level playing field, cioè un campo da gioco più piatto, più equilibrato per tutti. E con questo credo che per farlo non si possa semplicemente chiudersi, ma bisogna lavorare insieme. I Stati Uniti e Europa avevano cominciato a farlo per iscrivere le regole del commercio mondiale.